Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, oggi siamo sul terzo episodio di Rocket League e iniziamo subito a trovare una partitella ci manca una partita vinta o persa per arrivare al livello 17 perciò anche se la perdiamo ci arriviamo lo stesso ed entriamo subito nella partita allora guardiamo in che squadra siamo vai siamo tutti perciò si inizia subito 3, 2, 1, vai voglio vedere se riesco a fare gol almeno perchè negli ultimi episodi ne avrò fatti pochissimi andiamo, una palla buona per me, andiamo ora, vaffanculo sempre ovviamente liscio la palla ah no, vaffanculo, merda ci hanno fatto gol perchè è colpa mia, perchè ho lisciato la palla ovviamente come sempre, perchè io non riesco a prendere le palle le palle proprio nel viso non le riesco a prendere, no, ditemi voi proviamo a fare un gol almeno, andiamo ecco, ora ciò mi chiamano subito direttamente nel culo no, meno male eccoci no, meno male oh, è rimbalzata 10 milioni di volte anche se non mi riesco a trovare la palla spaziamo via andiamo riparta di furgoncino di merda ecco, ora ce lo fanno ce lo fanno oddio, meno male anche se c'ero io a pararla però per sicurezza hanno sbagliato oddio, si fa a noi, si fa a noi? non si fa a noi andiamo, ora ce lo fanno oddio, che burro di culo mamma mia cioè sto giocando contro questo qui che ha fatto il tiro ora che è un professionista ecco il gol eccolo che cazzo fai? coglione mi rubano i gol sarà belle anche due episodi che mi rubano i gol così c'ero io ve lo tiravo io entrava grazie a me che cazzo fai te? la butti dentro no, grazie grazie mille ah questa gente ecco la palla oddio, fermiamo come cazzo ha fatto a pigliarla lì? era il volo ha fatto un volo della madonna vai altro gol, vai due a uno questa era impossibile da parare anche per me che ieri ero accanto alla palla però io ho fatto prima l'ho buttata dentro almeno mi sto a rompere i coglioni ah guardiamo se si vince ci manca c'è solo un gol di differenza andiamo un casca palla si qui c'è mi haze oddio si fa gol mamma mia due a due pari come cazzo ha fatto? io sono esploso dalle propagazioni amikaze ed ecco il gol ma proprio a bucio di gula anche questo manca un minuto e 44 alla fine della partita e partiamo vanno loro almeno io mi sto a rompere i coglioni tutto cazzo è la palla non mi riesce a trovarla eccolo ma ma gli fa certi lisci cioè io la spazio dio andiamo alcuno al centro e li volano dietro la palla io non c'ho parole mi fa volare dietro così la palla così all'improvviso ecco ce lo fanno vai in posto come sempre sotto al minuto fanno sempre i gol cioè guarda questo dalla porta cioè io io non lo so quando il tempo è sotto a un minuto fanno sempre i gol ok hanno ragione mamma mia andiamo non ci si fa è finita manca 3 2 1 perso vai prima partita persa subito partita di merda abbiamo vinto un'antenna andiamo subito alla prossima partita eccoci qua stiamo entrando nella seconda partita della puntata di oggi eeeh beh 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 andiamo già fa inizia vai a posto siamo sempre nella squadra rossa andiamo speriamo che non ce lo facino subito si proprio al minuto che se no mi incazzo l'ho detto l'ho detto sono stato io l'ho detto lo sapevo tanto che lo mettevo a loro per forza perché io non riesco a stare zitto vaffanculo bastardo riproviamo almeno a fare un gol eccolo eccolo l'ho messo no vai meno male ho messo a lui cula assist lo stavo per fare io però mi era andata troppo la palla troppo hard 1-1 manca 3 minuti 19 ce la possiamo ancora fare a sorpassare i nostri avversari andiamo via 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 palla su palla su cazzo la palla vai eccolo eccolo mamma mia sempre lui che gol ghost mamma mia che golazzo proprio di rimpallo su il laterale del campo boom anche se la buttà dentro l'avversario però sempre gol mio grazie si sta su 2-1 al 2 minuti dalla fine possiamo vincere vai attenzione qui perché sta grandissimo vai ci si fa ci si fa oddio eccolo mamma mia che gol proprio con il turbo a 300.000 orari meno male mi è riapparso l'ora di turbo 100 se no non ce la facevo tanto c'era il mio compagno di squadra e la prendeva ugualmente si salta 3-1 a un minuto e mezzo dalla fine stiamo attenti ad andare sotto dal minuto perché ce lo mettono subito di sicuro manca 50 secondi se ne si sta sempre 3-1 dai c'è la maledizione quando siamo sotto a un minuto fanno sempre i gol cioè io non c'ho parole ah no ma si è fatto uno i gol che coglione non riesco neanche a vedere le porte in questo gioco mamma mia l'intelligenza allora si è vinto 23 si può vincere manca quasi 10 secondi ecco l'ho detto l'ho detto vabbè tanto manca 10 secondi si sta su 4-2 come fanno a farci altri due gol lo sono solo loro è possibile però spero di no quando vedete voi questa puntata io sarò in vacanza perciò sono a godermi le mie vacanze possiamo dire che questa partita ormai è vinta perché 9 secondi si sta sul 4-2 oddio me l'ha presa quella il volo oddio ho detto ora la mette subito 3 2 1 e mamma mia si vince è sempre così perdo la prima e vinco la seconda io non lo so vabbè allora per questo appuntamento di lotteleague può finire qua il terzo episodio ve ne sto preparando anche un quarto perciò alla prossima bella a tutti